Siamo molto contenti perché comunque avevamo delle situazioni fisiche da gestire, però loro erano una squadra che spingeva e lo sapevamo. Siamo state brave a rimanere sempre lì, magari abbiamo avuto dei cali, abbiamo avuto degli attimi dove abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, però siamo state molto concrete quanto contava e quello che conta. Diciamo che ieri un po' siamo calate noi, comunque loro hanno giocato un'ottima pallavolo e c'è da riconoscerlo. Questo è un torneo lungo con tante partite e quindi dopo la partita abbiamo iniziato a pensare subito alla partita di oggi.